Due lettere di licenziamento, Mirta alla Giannetti Ruote, sono i primi licenziati dopo lo sblocco dei licenziamenti alla fine della pandemia. Siamo in provincia di Brescia, loro sono una delegazione di lavoratori che non hanno certezza del futuro. Loro hanno ricevuto un telegramma, Mirta penso, dalla sera alla mattina dal fondo di investimento tedesco che gestisce questo stabilimento in provincia di Brescia. Gianluca, all'improvviso è successo questo, voi stavate lavorando, stava andando tutto bene, è arrivata una lettera, licenziati. Sì, è arrivato un telegramma a casa dicendo che eravamo licenziati, un'azienda che va bene, 100 anni di storia, avevamo lavoro, ha sfruttato la cassa integrazione invece di metterci in feria, ha messo in carta direzione la gente che aveva da lavorare, abbiamo un lavoro vogliamo, non esiste queste nevocalizzazioni con queste aziende che vengono e portano via il lavoro. Giannetti Ruote, un'azienda italiana, chi l'ha comprata? Allora Andrea, no, di lì di stare calmo perché è chiarissimo quello che stanno dicendo, non voglio che si arrabbi, anche se capisco benissimo perché è arrabbiato francamente, perché noi eravamo abituati a occuparci di crisi aziendali dovute appunto a una crisi, adesso raccontiamo tutt'altro, aziende sane che vanno bene e lavoratori che vengono manati a casa da un giorno all'altro o con una mail o con un telegramma, non avendo mai un rapporto diretto alla proprietà, proprietà che si smaterializzano, cioè è un vero disastro nel mondo del lavoro questo, ve lo devo dire perché siamo almeno al decimo caso che racconto in questi ultimi due o tre anni. Arrivo subito dai lavoratori, però voglio sentire subito un commento dei miei ospiti, passo da Borgonovo e poi faccio il giro. Francesco?